Oggi lanciate un programma, un progetto molto importante contro il cyberbullismo, mi può dire nel dettaglio? Sì, assolutamente sì, io ho sempre pensato che le istituzioni debbano occuparsi di queste tematiche sempre, non solo quando ci sono drammatici fatti di cronaca, perché queste sono piaghe reali della nostra società e farlo in sinergia con tutti quanti, anche con le scuole e la società civile. Per cui oggi lancio un'idea, un progetto particolarmente interessante perché viene condolto nelle scuole, ovvero gli stessi ragazzi, nella redazione di un libro condotti, presi per mano da personaggi che per loro sono importanti nella comunicazione, quindi youtuber, blogger, sportivi, personaggi della cultura, del giornalismo e redigeranno un libro che si chiamerà Internet Say Tu, che declinerà 14 messaggi specifici proprio sulla tutela della persona sul web e contro cyberbullismo, web reputation, per la web reputation, sex, interange, buone contatti.